In Giappone esiste una stazione ferroviaria fantasma. Si chiama Seiryu Miyara Shieki e non ha né entrata, né uscita. Il treno si ferma in mezzo al nulla. Non ci sono paesi, negozi o attrattive turistiche nelle vicinanze. Ma allora, a che cosa serve? Si tratta di un monito. Scendere a questa stazione, infatti, significa scegliere di fermarsi, sia fisicamente che mentalmente. Qui il viaggiatore ha la possibilità di prendersi una pausa dalla frenesia quotidiana e apprezzare il silenzio della natura circostante.